Stai per iniziare, atmosfera splendida sugli spazi, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Pierlucipardo e Lele Adani prontissimi a raccontarvi questo match. Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della Serie A-T. Match che si pronuncia davvero molto interessante. Il calcio ha la nostra passione, la nostra ragione di vita, Pier. Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Dimelo tu, io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. Superanti e con il numero 9 Andrea Pinamonti. Grazie a tutti. E' tutto per l'ora, buon match a tutti. Comincia dunque la gara. Nessun dubbio per l'arbitro, sarà punizione. Ecco l'undici di partenza messo in campo dal tecnico degli ospiti. Meret tra i pali, una maglia per Mario Rui in difesa con Di Lorenzo dal ruolo di terzino. Silischi insieme allo Bocca in posizione centrale. E in avanti Vittorio. Ossiman! 1-0! C'è il gol del vantaggio! E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. E' stato bravo qui a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0! Vittor Osiman! Rogerio! Può correre lungo l'auto. Verardi! Occhio alla botta! Attento qui il portiere. Conclusione non trascendentale. Mario Rui. Interviene, intercetta il passaggio. Prova con questo lancio in verticale. Esulta il portiere, fa bene. Questo vale come un gol. Un intervento prodigioso sfoderato. In molti avrebbero preso gol da quella distanza. Scambia corto con il compagno. C'è un nuovo calcio d'angolo. Prontissima qui intanto la regia che ci mostra nuovamente il gol del vantaggio. Sceglie subito il compagno. Verardi. Si guarda attorno per cercare una soluzione. Recupererò bene il pallone. Situazione che era interessante. Occhio al pallone filtrante. Riconquista palla in aria con un movimento d'applausi. Buona circolazione da parte del Sassuolo. Sono andati a un passo dal pareggio. Pallone che non è uscito di molto. Per il tentativo, Pier, non era così scontato. E' centrare la porta da quella distanza. Gioco fermo e allora ecco il giallo per l'intervento precedente. Zilinski. Fuggerimento interessante. E c'è il gol e raddoppia la loro situazione di vantaggio. Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno il tiro. Non poteva sbagliare da lì. Aveva tutta la porta davanti a sé. Match che riprende. Ha allungato portandosi sul 2-0. Vittorio Ozymane. Lossano. Alla gol per Lossano. Il portiere dice di no. Corner battuto in mezzo. L'uscita sicura del portiere. Nessun problema per lui. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Ospiti che hanno fatto registrare un minor possesso palla rispetto agli avversari finora. Ma questo dimostra che nel calcio non è sempre importante avere il possesso palla. Ma sono le occasioni che ti procuri che fanno la differenza. Poi non vale l'equazione che chi tira di più fa più gol. Bisogna essere freddi, lucidi al momento della conclusione a rete. Alla fine basta una rete in più degli avversari per vincere. Fallo non sanzionato per il vantaggio. Occhio alla conclusione. Ha cercato il gol di potenza ma niente da fare. Bruta conclusione, Pier. Potenza, mira. Tutto sbagliato. Azione che si fa interessante. è fuori gioco, arriva la segnalazione dell'assistente. Sembrava in linea. Mario Rui. Zilinski. Osimene. Ottima la copertura. Vediamo come sfruttano il contropiede. può rimettere in piedi la partita. attenzione il gol, accorciano le distanze. E' efficace qui il pressing, come possiamo vedere dalle immagini. perché il lavoro corretto è quello di tutta la squadra nel recuperare palla e trovare il barco giusto per battere il portiere. l'arbitro manda le due squadre negli sfogliatoi al termine della prima frazione di gara. C'è il fisico. Secondo tempo che ha avuto inizio. Osimene. Osimene. Balla che esce di fuoco qui. Che occasione. E lo voglio sfruttarla meglio. C'è un cambio. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Diceve sostegno. Brava il lancio profondo. Spazza via il pallone. Salta il difensore. Sembra risentire ancora della botta di prima. Si vede che non è fluido nella corsa. Palla che filtra attenzione. Mario Rui. Se l'è allungato troppo e ha vanificato un'opportunità interessante. Sostituzione in arrivo. Sostituzione in arrivo. Sta facendo fatica a correre. Deve sentire parecchio dolore. Non sembra in condizione di continuare. Provano ad affacciarsi davanti. Interviene. E stava diventando pericolosa questa. Attenzione. Hanno la possibilità del contrapiede. Capisce tutto e ferma l'azione. Prova a far salire la squadra. Intervento falloso. Interrocutazione interessante. L'arbitro potrebbe anche prendere provvedimenti. Ammonigio qui. L'autore del fallo. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. C'è un cambio. Decide così il mister. Cerca addirittura la porta. Senza problemi il portiere sulla punizione avversaria. Riescono a recuperare il possesso. Vieni ricordiamo che qualsiasi via azione della regola dello stadio potrà essere perseguita. Verardi. Intercetta un pallone molto pericoloso. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Taglia fuori bene qui la difesa con lancio lungo. ha sbagliato un pallone facile facile. C'era comunque la posizione irregolare. L'aveva combinata grossa. Era davvero difficile non inquadrare la porta da lì. l'intervento pulito sul pallone. E comincia un'altra azione importante a caccia del pari. Ottima la parata. Corner da sfruttare se vogliono il pareggio. Sceglie il tocco corto. Kroski viene intercettato. Taglia efficace. C'è spazio per il contropiede. Possono sfruttare la ripartenza. Scatta verso la porta. Fa il suo dovere qui il portiere. E c'è il gol. Il terzo. Non si ferma più. Possiamo rivedere le fasi finali dell'azione che ha portato il gol. Bravo l'attaccante ad avventarsi sulla respinta e a crederci. battendo il portiere provvidenziale peraltro sulla prima conclusione. Non poteva far di più per evitare il gol. Siamo 3 a 1. Magari non finirà così. 9. Vittor Osimè. Ecco Berardi. L'arbitro non ferma il gioco per questo intervento. C'è la norma del vantaggio. Qui se fosse entrato il pallone sarebbe venuto giù lo stadio. Conclusione apprezzabile ma solo delle intenzioni. L'ha svirgolata. Palla che poi ha preso uno strano effetto determinata lontanissima dalla porta. In campo con il numero 91, Tanguil Dombele. 3 minuti di extra time. A metri per andare. Prova in acrobazia. E c'è il gol. Un capolavoro questo. Il replay del gol evidenzia il cross calibrato alla perfezione. Bisognava solo spingerla dentro da lì. L'ha messa dentro da pochi passi. Era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Non sono certo mancati i gol oggi. Conteggio sul 4 a 1. Finale di gara con gli ospiti che si aggiudicano l'intera posta. Un successo strameritato. Rotondo. Mai in discussione. Hanno preso in mano il pallino dal primo minuto e non l'hanno più mollato. Prezzazione di altissimo livello la sua quest'oggi. Madre di Dios. Pierre. Anientato senza pietà la difesa avversaria. Bucando la rete per ben tre volte. Trascinando di prepotenza la squadra la vittoria. Cap arbietà. Spirito di iniziativa.